scende il cancelletto di partenza tre olgiatesi e un besnatese allora andiamo a vedere abbiamo ganora berlusconi urinari insieme a candeo la prima posizione nelle mani dell'olgiatese con la tabella numero 521 molinari poi abbiamo la treta del besnate candeo e poi i due olgiatesi a chiudere finale b categoria g6 al cancello ravazzani caslini brini zavaglio panzeri pertica si va